perché ho deciso di diventare uno chef ho fatto della mia passione la mia professione e della mia professione la mia passione della mia professione mi piace non essere statico essere sempre dinamico la possibilità di creare di poter cercare nuovi ingredienti essere curioso mia passione per cucina è nata quando ero piccolo e ho avuto la fortuna di nascere in una fattoria dove tutto veniva prodotto e allevato in casa quindi tutti i prodotti genuini venivano coltivati prodotti e lavorati direttamente in casa traguardi che mi hanno dato più soddisfazione sono stati quello di avere potuto realizzare il mio sogno la mia passione quindi diventare uno chef di avere avuto la possibilità di aprire un ristorante inizialmente poi il secondo anche grazie a Neolit qui a Porto Cervo e un'altra grande soddisfazione che non dimenticherò mai è di avere ottenuto il traguardo importantissimo delle tre stelle e di averle mantenute per tanto tempo ho scelto Neolit perché è un prodotto di grande qualità di estetica molto bella molto d'utile maleabile nel poter realizzare il design che avevamo pensato e poi è molto pratico per lavorarci ecco il nostro piatto è pronto il polpo cotto all'olio d'oliva leggermente abbrustolito fagiolini profumati all'aglio una crema di peperoni rossi dolci sale di cervia olio d'oliva strevese di selezione confusion e l'usufo per Neolit Grazie a tutti per aver guardato il nostro canale!